E' fatta! Allora, Lukaku viene all'Inter, 80 milioni, questa è una notizia che ribalza dalla Spagna, Haas, il quotidiano spagnolo, dà per sicuro per 82 milioni l'acquisto di Lukaku all'Inter, mosso importantissima per una serie di fattori. Il primo fattore è uno degli acquisti più importanti della storia dell'Inter, se pensiamo due anni fa, tre anni fa, che stavamo lì a contare i 2 milioni, milioni per Ramirez, se potevamo comprare verdi o non potevamo comprare verdi, è passata, quest'acqua è passata finalmente sotto il ponte, è andata via adesso, se si acquista, si acquista Barella, 50 milioni, si acquista Lukaku, 80 milioni, se questo è il gioco del calcio in questo momento, il mercato del calcio, noi siamo là fra i protagonisti, non siamo ancora a livello quello alto, 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 comunque ci stiamo facendo, stiamo arrivando a vedere anche quelle stelle, questo è veramente importante, è importante dare anche questo messaggio un po' a tutto il mondo, nel senso ai tifosi sparsi in tutto il mondo, perché Lukaku è una di quelle persone, è uno di quei giocatori che ti dà quell'articolo sul giornale ovunque, anche in Cina, Lukaku passa all'Inter, questi sono messaggi che dai un po' a tutto il movimento, nel senso di dire adesso siamo una società solida, forte, siamo arrivati. Questo è un punto con Lukaku, il secondo punto ovviamente è il punto di vista sportivo, tecnico, il giocatore che vuole Conte, noi volevamo Conte, Conte voleva questo giocatore, quindi anche noi vogliamo questo giocatore, perché lui ci crede tanto e se ci crede tanto avrà i suoi motivi, oltretutto Lukaku non è che è vecchio, è ancora giovane nel pieno, una notizia che forse alcuni di voi non avete letto è quella che Lukaku nelle testi quelli atletici, delle testi atletici che hanno fatto con la Manchester United, risulta che il secondo per velocità, quindi è enorme, Lukaku è enorme, è altissimo, è grosso, secondo per velocità, è uno che sta bene, se non stai bene, Wayne non va a fare il secondo per velocità, la Juventus o in qualsiasi altra squadra, Lukaku sì, quindi è in piena forma, va benissimo, fallo venire, fallo venire, fallo venire e fa venire anche Zeko, perché Conte crede in Zeko, deve arrivare anche Lautaro, abbiamo acquistato Barella, io ovviamente penso che l'Inter sia messa bene, è solida, è solida la società, la famiglia Zang sembra che sia ben contenta, si sta cominciando a divertire, questi hanno soldi, credete a me che lavoro, dove lavoro, hanno tanti 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 soldi, hanno comprato i care forcinesi, c'è tutta la catena, immaginate quanti soldi hanno, se prendono a cuore l'Inter e vogliono spendere, finiscono di avere quel braccino corto che sembravano avessero, diciamo, anche due mesi fa o due anni fa, se incominciano a spendere, l'hanno speso, perché hanno speso sul Conte, hanno speso sul Lukaku, su Barella, stanno spendendo, hanno speso sulla struttura prima, i soldi li stanno mettendo, l'allenatore c'è, i tifosi ci sono, la comunicazione c'è, ho fatto un video sul, è stato molto carino questo video su Not For Everyone, ho visto che c'era, stavo camminando qui a Londra e c'era un'installazione Same To Everyone, è una cosa bellissima come installazione, mi è venuto in mente di fare questo video, anche queste piccolezze, questa comunicazione intermedia, company così belle, fanno cose veramente belle, incomincia proprio a farmi piacere essere interista, lo sono sempre stato, ma fino a due anni fa ero un po' depresso, un po' che già sapevo di arrivare secondo, terzo, quarto, sarebbe stato anche una manna, adesso no, adesso voglio scendere in campo in questa Serie A per provare a vincere, voglio andare in Champions League, andarmela a giocare con tutti, così come succedeva quando c'era Mourinho, e ancora prima di Mourinho quando c'era Mancini, eravamo là e ci stiamo tornando e ci siamo tornati, sia per Lukaku, sia per Barella, sia per Conte, sia per tutta questa atmosfera che si sta creando, quindi ben contenti e contentissimi che ci sia questa atmosfera nell'Inter, non vedo l'ora, credetemi, qua dicono a Londra I can't wait, non posso aspettare, non vedo l'ora che inizia il campionato, che inizia il calcio giocato, perché questi ci daranno soddisfazione, questi qua ci daranno soddisfazione, non sarà come l'anno scorso che perdiamo col Sassuolo, pareggiamo col Torino, perdiamo col Parma, no no no, siamo là a giocarcela, sono convinto, facciamola insieme questa camminata, iscrivetevi, commentate, dite mi piace, dite non mi piace, perché io vi darò una valanga di dati, vi darò una valanga di dati, una valanga di grafici da guardare, sarà un'annata in cui cammineremo insieme, vedremo tanta roba, ovviamente sono a Londra, vedrò tanta Premier League, andrò a vedere la Championship, quindi stiamo insieme, perché comunque sia da interista, credetemi, sono contento, se arriva Lukaku sono veramente sportivamente contento, con voi, con i ragazzi che vestono la maglia nera azzurra e che fra poco andranno in tourne per prepararsi, quello che ci interessa comunque ovviamente è il campionato che sta per iniziare, un mesetto, manco un mesetto così è un poco più di un mesetto, inizierà, inizieremo con Lukaku, con Zeko, con Barella, con Andanovic, Perisic, Brozovic, Skriniar, Godin, l'abbiamo la squadra, l'abbiamo la squadra, l'abbiamo finalmente, ciao ciao!